Ciao a tutti ragazzi sono Daven, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un altro video su EA Sports VRC questo video è il secondo del rally di Kenya con la nostra Fida Ford Escort e niente, non c'è molto da dire, ultime tre garette un po' più corte delle altre, oddio in realtà relativamente l'ultima è più corta, l'altra più o meno sono lì e niente, ancora più carine di quelle nello scorso episodio quindi mi raccomando, mi raccomando godetevele e niente, ci vediamo a fine video, buona visione C'è solo questa tappa da completare prima della manutenzione e se questa crew non avrà problemi particolari le riparazioni necessarie saranno minime Inizia con accenno destra, 100, buona fortuna 5, 4, 3, 2, 1, via, accenno destra, attenzione 100 Sinistra 6, corta, dopo incrocio, 30, corta Destra 5, sinistra 5, destra 6 e accenno sinistra 80, destra 5, corta e accenno sinistra Sù, losso, 600 Abbia e sinistra 2, non tagliare, 100 Destra 4, apre, 10, via, accenno sinistra, pronta, 90 Sinistra 4, brusca, 90 Stai a sinistra, sudosso, 40 Destra 5, corta, in sinistra 6, 100 Ritata a sinistra 6, sudosso, 40 Rallenta, dosso, 40 Sinistra 3, corta e destra 2, brusca, 70 Balbivio secca, sinistra 90 Destra 4, corta, 40 Accenno sinistra, 60 Destra 3, corta, 30 Sinistra 2, 80 Accenno destra, 90 Accenno destra, 100 Sinistra 5, corta, tieni, 170 Sinistra 2, chiude E destra 1 E setta sinistra E destra 4, corta, 50 Accenno sinistra, 70 Accenno destra, lunga E sinistra 6, destra 6, 70 Attenzione Sinistra 5, chiude In destra 6, taglia, 40 Sinistra sudosso, 40 Dosso, 60 Accenno destra, sudosso, 150 Sinistra 6, corta, allenta, 80 Destra 5, 30 Albivio secca destra, non tagliare 50 Accenno destra, non tagliare E albivio sinistra 2, chiude, 150 Sinistra sudosso, 220 Allenta Albivio tornata destro 550 Gira Gira Sinistra 3, brusca Roccia interna, 30 Destra 3, apre E albivio sinistra 2, corta, 30 Sinistra 6, rallenta, 40 Accenno destra E sinistra 5, corta, 40 Gira, ritarda sinistra 1, nascosta, non tagliare E destra 4, corta, attenzione, 80 Rallenta Destra 6, subito in sinistra 4, 30 Secca destra E accenno destra Accenno sinistra, 130 Sinistra 3, chiude, 90 Albivio destra 1, corta, 450 Albivio sinistra 1, sudosso, alcespuglio 90 Sinistra 6 E destra 4, corta, 40 Destra 1, corta, 30 Sinistra 6, 170 Destra 3, corta, non tagliare All'incrocio, 400 Albivio sinistra, 100 Albivio secca sinistra, all'albero, roccia interna E destra 4, corta, 30 Accenno sinistra, corta, non tagliare Sì, 90 Sinistra 6, chiude, rotta E destra 5, corta, non tagliare 90 Albivio tornante sinistra E accenno sinistra Medestra 5, corta, corta, sudosso, 100 Albivio destra 2, 40 Secca destra 30 Secca sinistra, corta E secca destra, chiude E sinistra 4, media Accenno destra, media In sinistra 3, apre 100, rallenta Stai a sinistra, sudosso 40 Albivio secca destra E sinistra 6, non tagliare 140 Stai a sinistra Destra 6, corta, arrivo 80 Accenno sinistra All'arrivo, ok Il tempo di 5 minuti 24,1 Gli ingegneri hanno fatto meraviglie con quell'auto È così che deve essere Ogni componente del team deve dare il massimo per la riuscita della gara Inizia 170 Secca destra Buona fortuna 5 4 3 2 1 Via 170 Rallenta Albivio secca destra 100 Dosso 80 Albivio secca destra 200 200 200 Alivio sinistra 1 Nascosta 130 Molta attenzione Salto piccolo 30 Nel tra 1 Chiude 50 Dosso 100 Albivio sinistra 1 80 80 Destra 6 Dosso 100 Destra 4 Porta 60 Rallenta Accenno destra Secca destra Albivio 180 Attenzione Attenzione Stai a sinistra Su dosso Subito secca sinistra 40 Accenno destra In un dos 70 Dosso Vallenta 50 Albivio secca sinistra 30 Dosso 230 Accende Sinistra Sinistra 1 40 Rallenta Passa 1 30 Albivio secca destra 30 Destra 1 Porta In sinistra 3 110 Ritarda Destra 3 Attraverso Incrocia 50 Destra 3 40 Sinistra 6 Sudosso 150 Albivio secca destra 60 Sinistra 3 Porta Sudosso 30 Dosso In un avvallamento Di salto 40 Sinistra 5 Media In indosso 40 Sinistra 2 Porta In destra 2 Porta 30 In sinistra 4 Porta E Albivio secca sinistra 120 Salto 120 Dosso In un dosso Subito sinistra 4 70 Vallenta Albivio secca destra 80 Albivio secca sinistra In destra 6 In sinistra 6 60 Sessanta Sessanta Destra 6 Media In sinistra 5 200 Albivio secca sinistra Taglia poco 80 Albivio destra 1 30 Sinistra 3 Busca In destra 2 30 In sinistra 2 In sinistra 2 Busca 150 Pronto Dosso In destra 4 70 Accendo sinistra Accendo destra 90 Dosso 50 Sinistra 4 60 Destra 3 60 60 Accendo destra 40 Sinistra 3 E destra 2 Taglia poco E albivio tornante sinistro E secca destra Non tagliare 100 Accendo Accendo sinistra Su l'osso 40 Sinistra 4 Su l'osso Lunga Apre 30 Dosso piccolo 30 Sinistra 1 Lunga Accendo destra 50 Destra 3 Apre Poi chiude Destra 1 Su l'osso 40 Sinistra 5 Su l'osso E dossi 70 Sinistra 5 Porta E dossi lungo 80 Salvo 120 Ritanda Destra 3 60 Albivio tornante destra 60 Destra 6 70 Sinistra 3 Porta 80 Dosso 100 Rallenta Destra 6 Su l'osso 30 Sinistra Sinistra 3 50 Sinistra 4 Porta 100 Destra 6 160 Accendo sinistra 40 Destra 5 Lenta Sinistra 5 Sudosso 70 Sinistra 5 Media Rotta 100 Sinistra 6 Sudosso Valenta 70 70 Destra 4 Sudosso 50 Sinistra 4 Corta Tortuosa 150 Accendo destra 40 Destra 6 Corta 60 Accendo destra Taglia In sinistra 4 Taglia In destra 6 50 Sinistra 5 30 Destra 3 In sinistra 3 In sinistra 3 In sinistra 3 In destra 4 Busca 60 Arrivo In sinistra 4 All'arrivo Ok Ok Tempo di 6 Minuti 8 3 Finora è stato un evento emozionante ma adesso siamo alla tappa finale dove ci si gioca il tutto e per tutto Inizia 50 Sinistra 4 Buona fortuna 5 4 3 2 1 Via 50 Sinistra 4 Busca In destra 3 E sinistra 3 30 Destra 5 70 Sinistra 5 In destra 4 E sinistra 6 100 Sinistra 6 80 Accendo sinistra corta 180 Destra 5 Corta 70 Sinistra 4 Chiude su dosso 40 Destra 6 E dosso piccolo 100 Destra 4 Lunga 50 Destra 5 Chiude 30 Sinistra 4 Corta E destra 6 160 Sinistra 6 30 Accendo destra 50 Destra 4 Non tagliare 60 Destra 3 E sinistra 4 Non tagliare 110 Accendo destra 80 Dosso Seguito destra 3 50 Sinistra 6 Allenta 60 Aldivio tornate Sinistro 40 Sinistra 3 Media 170 Salto Salto Dosso In destra 4 Su avvallamento 70 Destra 5 Su dosso In destra 4 Corta Su dosso 50 Sinistra 1 Su dosso Tieni E sinistra 4 40 Accendo sinistra Rallenta E destra 2 Chiude 1 40 Destra 4 Media 190 Rallenta Secca sinistra Nascosta E al bidio Secca destra 30 Sinistra 1 30 Destra 2 40 Accendo sinistra 50 Sinistra 4 Chiude 50 Destra 5 E stai a destra Su dosso 180 Sinistra 3 Un po' Incrocio Un po' Dosso 60 Accendo destra 100 Gira Destra 2 Corta In sinistra 2 In sinistra 2 In sinistra 3 30 Al bidio Secca sinistra 80 Al bidio Secca destra Taglia poco 120 Destra 5 Di sinistra 6 Rallenta 50 Su arrivo Secca destra All'arrivo Ok Tempo di 3 Minuti 12 7 E signori Eccoci quindi Al termine di questo rally Di Kenya Che dire Molto Molto Figo Terreni un po' Diversi Pur essendo sempre Sterrato Pieno di pericoli Cioè E E E Veramente una trappola mortale Sto rally Però molto Molto figo E Niente C'è poco da dire Abbiamo comunque vinto il rally Nonostante comunque Tra l'altro L'ultima tappa Non ve l'avrò Credo fatto vedere Però nell'ultima tappa Addirittura siamo arrivati Veramente in basso Cosa che tra l'altro Non capisco Perché non siamo andati così male Ma va bene E Quindi Comunque questa difficoltà Se non vai proprio Fortissimissimo Ti punisce È sempre 95 su 100 Quindi comunque Ecco Non stiamo giocando A Principiante E Niente Insomma Io spero che questo Episodio Possa essere vi piaciuto Noi ci vediamo Nel prossimo con Non so cosa onestamente Non mi ricordo se ho registrato O altro Vabbè Lo vedrete Al prossimo episodio Mi raccomando Like e commentino Se questo vi è piaciuto Iscrizione Importantissima E condivisione Campanellina Che aiutano sempre Niente Ci vediamo al prossimo Vi ringrazio per la visione Ovvio Ciao Ciao